Buongiorno, buonasera, Marco Pt, terza parte della rubrica Personal Training, standard professionali. Questo è il terzo capitolo di questa rubrica, poi se ci fossero spunti o richieste o argomentazioni, quant'altro, sarò lieto di approfondire. Però questo è sostanzialmente il capitolo conclusivo per quello che io ho da dire in merito al Personal Training, alla professione del Personal Trainer. Questa puntata è inerente agli standard professionali, ovvero quel minimo di presentabilità al cliente. Allora, nel Personal Training, se si vuole avere un approccio da professionista, le prime regole sono sempre le due P. Puntualità e pulizia, so che sembrano temi scontati, per fortuna in Italia si è molto attenti a queste cose. Comunque, non è mai detto. Puntualità e pulizia, cosa vuol dire? Vuol dire che il cliente può arrivare in ritardo, voi no. La regola di base è sempre essere presenti un minuto prima del cliente. Se poi dovete aspettarlo, non è un vostro problema, è un suo problema. Che eventualmente, non so, verrà ricucito, magari recuperando i minuti persi. Poi, se per caso ci fosse un cliente immediatamente successivo, chiaramente, essendo pagati a ore, la vostra sessione verrà decurtata, parzialmente, insomma. Ecco, comunque, se possibile, se posso darvi un consiglio per non mettervi contro troppe persone, cercate di assecondare magari il ritardo e fargli recuperare i minuti persi. Consiglio personale, poi i più intransigenti potranno anche decidere, no, l'ora è finita, ciao, fine. Io, personalmente, ho sempre avuto l'opinione di venire incontro ai clienti e aiutarli, in questo senso. Poi ciascuno faccia come vuole. Questa rubrica non si intitola il decalogo del perfetto personal trainer. Io sono tutto, tranne anche un perfetto personal trainer, anche perché ho visto gente veramente in gamba fare questo mestiere. Penso a Michael Earn, sul quale tornerò più tardi. Seconda P, pulizia. Voi potete persino avere una divisa, potete anche lavorare con un logo, un marchio, un uniforme, in un certo senso. Però la pulizia è importante. Ok, essere belli fuori, ma avere odori sgradevoli o aloni strani in posti che non dovrebbero presentarne, non è di sicuro un bel veglietto da visita per un cliente, soprattutto nel primo approccio, ma anche nei seguenti approcci. Quindi i due P, puntualità e pulizia. Queste sono le cose più importanti per far capire che siete lì per dare un servizio, per essere professionali. Personal trainer, come dicevo in altri video, è un mestiere che ho fatto per anni, sotto varie bandiere. Le regole sono sempre le stesse, sono sempre queste. Spero in questo video di venire incontro ai ragazzi giovani o alle persone meno giovani che vorrebbero provare questa professione. Come ripeto, lo faccio per cercare anche di creare un ambiente magari favorevole anche a me, caso mai dovessi tornare e intensificare l'attività in palestra, sul campo. Allora, un'altra cosa importante per gli standard professionali è il sorriso. E qua purtroppo io non ho nulla da insegnare a nessuno, perché io tendenzialmente ho sempre sorriso poco in palestra, perché non che io sia uno stronzo, veramente sì, però il fatto è che io vedo il lavoro di personal trainer come un idraulico, vede il suo lavoro di idraulico, quindi io sono tuttora abbastanza teso a far lavorare il cliente, dargli tutto quello che serve per avere una sessione di successo e basta tutto lì. Magari finché il cliente sta riposando io mi segno i carichi, scrivo le mie impressioni, annoto le anomalie, è come se fossi un medico che ha la cartella clinica, ecco, non è che mi credo di essere Dr. House, per carità, però finché lavoro mi piace tenere un tacquino, un registro, una cartella dati di ciascun cliente che seguo, così posso controllare le fluttuazioni di carico, posso verificare quali sono gli approcci migliori, le strategie più vincenti. Questo mi dà anche tanta più tranquillità al lavoro, non devo improvvisare, non devo cercare scuse, posso andare dritto al punto e dare al cliente sempre un servizio migliore possibile, ecco, senza dover appunto improvvisare o cercare appigli strani. In buona sostanza avere un diario anche per i clienti vi facilita enormemente il lavoro. Ovviamente spero che chi di voi mi sta ascoltando, chi fa il personal trainer, abbia un suo diario di allenamento personale. E' buona cosa tenere un diario anche magari più semplice per i clienti. In questo modo potete monitorare il loro lavoro. Il vostro, per quanto mi riguarda, andrebbe comunque sempre monitorato. Ogni workout che fate, secondo me, andrebbe annotato. Io perlomeno faccio così con i miei workout. Poi sicuramente ci saranno personal trainer che girano con le Lamborghini, che mi diranno, no, guarda, io non tengo nessun diario, sono grosso come una casa, faccio un sacco di pila, basta, fine, per carità. Nessun problema. Allora, parlavo prima di Michael Earn, parlavo di Michael Earn. Michael Earn è una persona a cui viene spontaneo a sorridere, ha uno sguardo magnetico, ti guarda negli occhi e tu diventi improvvisamente Superman. Quindi lui ha un carisma, emana una specie di energia che riesce a trasmettere al cliente. Questa è qualcosa che non si può insegnare. Per questo dico che ci sono personal trainer di altissimo profilo e poi sotto non c'è neanche un numero due. In certi casi è così. Michael Earn mi risulta essere più vicino ai 50 che ai 40. Io ho visto il suo video in cui allena Rob Richies e si vede un perfetto esempio di personal trainer che lavora in una palestra strapiena, affollata. Riesce comunque ad essere diretto e comunicativo, nonostante le telecamere, nonostante la gente. Riesce a dare in pochissime metafore tutto quello che serve a livello tecnico per impostare un principiante. Earn in quel videoclip, ormai penso famoso, doveva istruire il suo pupillo nelle tre alzate di base del powerlifting. Lui con due metafore gli ha praticamente fatto un intero manuale di biomeccanica. Immortale, celebra la sua metafora Bend the bar, panca piana, piega il bilanciere. Piegando il bilanciere una persona riesce quasi a sentire i dorsali, capisce di dover offrire in sacrificio i muscoli pettorali e non le articolazioni delle spalle. Quindi con pochissime parole, il famoso pragmatismo americano, costruire riusciva a dare immediatamente un'immagine da trasferire poi nel mondo fisico. La stessa cosa per lo stacco sumo. Nello stacco sumo Michael Hearn usava dire fall back, cadi indietro. Cadendo indietro tu porti il peso a scaricarsi a terra, riesci a spingere con le cosce e trasformi lo stacco sumo in quello che dovrebbe essere, cioè una cosciata, cioè una spinta di cosce, non una tirata di schiena. Quindi queste cose qua, ripeto, non si possono insegnare. Michael Hearn è un talento della comunicazione. Poi vabbè, ha lavorato anche nel cinema, è un bellissimo uomo, biondo, alto, eccetera. Qua non voglio neanche per carità paragonare la mia umile persona a uno così, però questo è un classico caso in cui si unisce carisma, competenza e aspetto fisico. Questo diciamo è una specie di connubio perfetto. Poi è chiaro che ognuno di voi è unico. Io posso anche citarvi il top, no, capito, ma ognuno di voi ha un proprio stile. Quello che vi esorto a fare, e lo ripeto ancora una volta, è sviluppare il vostro stile. Sarete personal trainer molto più felici e riusciti se porterete avanti i vostri punti di forza, facendone quasi un vanto, non cercando di imitare lo stile di qualcun altro. Se io provassi a imitare lo stile di Mike Hearn mi lancerebbero le uova in palestra, sembrerei ridicolo, non sembrerei credibile, non sarei spontaneo. Io preferisco un approccio più asciutto, più sintetico, più diretto, più nel senso non diretto, più asciutto. Preferisco comportarmi appunto come un medico che tira giù i dati e si preoccupa di far salire le prestazioni e i livelli di salute del cliente. Sostanzialmente questo, poi quelli come me non hanno mai un giro enorme di clienti, non hanno clientele vastissime e accumulo di clienti. Hanno di solito una clientela solida e selezionata. Quindi sappiate subito che se non vi piace il mio stile vi capisco perfettamente. Forse oggi va più di moda il personal trainer con i capelli colorati, tatuaggi, vestiti sgargianti, fluo per carità, benissimo. Viviamo nell'epoca dominata musicalmente da sfera e basta, quindi posso capire. Nulla contro sfera e basta. Comunque in un mercato mutevole cercate le vostre radici. Questo è un po' il discorso. Ricapitolando questo video, per fare una specie di riassunto, 2P, puntualità e pulizia, poi approccio cortese e infine cercare di migliorarsi continuando l'aggiornamento, guardando anche altri professionisti magari di spicco. Marco Pitti, grazie per l'attenzione. Alla prossima. Grazie. Grazie.